In occasione dell'esercitazione che è avvenuta venerdì scorso presso la Scuola Regnier, organizzata sulla base del progetto Scuola Sicura Veneto, per la quale ringrazio l'assessore Bottacin e approfitto di ringraziare anche i volontari del Comune, dell'ANA e del Nore, abbiamo deciso di aprire un canale Telegram chiamato Belluno Alert. È un canale unidirezionale per comunicare appunto alla cittadinanza calamità o comunque avvertimenti di pericolo o quant'altro. È una cosa molto semplice, basta scaricare appunto il link, è un canale unidirezionale, quindi potremo scrivere solo noi, le eventuali informazioni che la cittadinanza vorrà chiedere e dovrà farlo sempre con i canali usuali, quindi telefono, mail o PEC. È un modo nuovo per cercare di avvicinare tutti i cittadini nel momento appunto del bisogno. Ci auguriamo possa funzionare e troverete le varie informazioni anche sul sito del Comune.